C'è una casa molto carica, senza sentito, senza cucina. Non si può, ma entraci dentro, perché non c'è chi fa... Azione. Ciao! Sono Elisa e sto andando dai miei per le vacanze. Di che cose si ciba il clown di It? Bambini. Paura. I bambini sono solo un mezzo. Pennywise mangia la loro paura. It's a good movie. Mark! Andate in strada e cercate aiuto. Non c'è nessuna strada. We're in the middle of the woods. Non siamo i primi. Che cos'è? È la leggenda di Osso Mastrosso Carcagnosso. La gente moriva di fame e loro promisero di salvarli. Ma non si è mai niente per niente. Ma perché nessuno lo dice? Questo è proprio il classico film dell'horror. Sai come si esce da questa foresta? Che vuol dire che non è una foresta? Something's up with her. Tu sei la più preziosa qui. Grazie a tutti